Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie sull'Armenia con cui stiamo cercando di scoprire la storia di questo paese cercando soprattutto di capire le cause di due avvenimenti molto diversi ma entrambi terribili e molto gravi avvenuti nell'ultimo secolo, cioè il genocidio armenio da una parte e la guerra del Nagorno-Karabakh che ormai da tempo vede l'Armenia e l'Azerbaijan scontrarsi per questo ed altri in realtà territori. Sulla prima parte abbiamo già dedicato le prime tre puntate in cui abbiamo raccontato l'origine dell'Armenia abbiamo raccontato, ci siamo poi concentrati sull'Armenia ottomana, cioè su tutta la parte occidentale dell'Armenia che dopo il trattato di pace tra gli ottomani da una parte e i persiani safavidi dall'altra si è trovata ad essere sotto dominio turco, una parte che come abbiamo visto ha subito varie violenze culminate proprio nel genocidio armenio durante la prima guerra mondiale. Oggi invece facciamo un piccolo passo indietro temporale, perché ovviamente concentrandoci sulla parte ottomana ci siamo in qualche modo dimenticati, abbiamo messo da parte la parte invece orientale dell'Armenia, quella rimasta sotto il dominio persiano. Una parte che è molto interessante per la nostra storia, innanzitutto perché è da lì che viene l'Armenia moderna, non dall'Armenia occidentale che oggi ricade invece nel territorio turco, ma soprattutto interessante perché se abbiamo visto come gli armeni venivano trattati all'interno dell'impero ottomano sarà interessante vedere la stessa cosa sul loro trattamento all'interno prima dell'impero persiano e poi di quello russo, una situazione che come vedremo evolverà molto nel tempo. Una volta raccontata questa storia potremmo poi riunire il racconto di entrambe le parti per andare avanti a raccontare la storia del popolo armeno, anche se, e ripeto questo è importante, dal punto di vista geografico d'ora in avanti racconteremo proprio solo la parte orientale dell'Armenia, cioè quella che rimarrà in effetti in mani armene. Un ultimo punto, in questa puntata inizieremo a introdurre anche un altro popolo, cioè gli Azeri, gli abitanti dell'Azerbaijan, anche se nel periodo in cui racconteremo venivano principalmente chiamati Tatari, un popolo che, come potete immaginare, avrà molto a che fare con gli armeni e a cui, anche se non dedicheremo una serie in realtà a parte, probabilmente dedicheremo parti di pillole come oggi o delle pillole intere. Vedremo un po' nello sviluppo di questa serie cosa sarà necessario. Quindi direi che l'introduzione è stata ampia, ma mi serve per introdurre proprio le prossime puntate. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo, così non vi perdete i prossimi appuntamenti con questa serie e altre pillole. Cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video? Sigla e poi iniziamo a raccontare. Come abbiamo già raccontato, all'inizio del 1600, degli anni 30 del 1600, l'impero ottomano e la Persia, all'epoca Safavide, fecero, siglarono un trattato di pace che sancì la divisione dell'Armenia e da questo momento le due parti dell'Armenia rimarranno sostanzialmente sempre separate. Bene, la parte di Armenia che andò a ricadere sotto il dominio persiano fu sottoposta, forse ancor più di quanto abbiamo raccontato invece per l'Armenia ottomana, a una serie di violenze e deportazioni. Violenze e deportazioni che in realtà, come abbiamo raccontato nella prima puntata, erano già iniziate durante l'epoca degli scontri tra Safavidi e ottomani, quando le forze persiane, nel momento in cui non riuscivano a sconfiggere quelle ottomane, a strappagli i territori dell'Anatoglio orientale, spesso deportavano le popolazioni locali, principalmente quelle cristiane che erano più numerose, per indebolire la base economica della zona. Questa politica di deportazioni continuerà anche una volta che l'Armenia orientale ricadrà sotto il dominio persiano, tanto che si stima che più di 300.000 armeni, ma oltre a questi anche georgiani e anche altri popoli, vennero deportati a forza dai loro territori fino alla Persia, venendo poi stabiliti in varie zone di questo territorio per in qualche modo staccarli dalla loro terra e rendere quei territori più controllabili. Il timore della Persia, infatti, era che gli armeni potessero essere difficili da controllare e che sarebbe stato meglio insediare altre popolazioni nella zona che potessero da una parte fornire soldati per poter combattere un'eventuale invasione ottomana, anche dopo la firma del Trattato di Pace i rapporti tra le due potenze continueranno a essere molto difficili, dall'altra parte popolazioni che essendo musulmane sulla carta sembravano essere più facili da controllare. Il territorio armeno, che quindi aveva conosciuto una perdita di popolazione e un arrivo di nuove popolazioni, verrà quindi diviso nei cosiddetti canati e non solo il territorio armeno, anche la parte meridionale della Georgia, l'attuale Azerbaigiane, una serie di potentati più o meno autonomi, il termine canato in realtà è una derivazione dal russo, nel termine persiano gli si definiva province, anche se diciamolo erano molto autonomi e i loro signori avevano larga autonomia rispetto al governo persiano, dei canati a guida musulmana che si divideranno il potere in queste zone per parecchi secoli. Ora, non tutta la Georgia era in mano a questi canati, perché in alcune zone sopravvivevano dei potentati semi-autonomi, diciamo così, che erano invece retti dall'antica nobiltà armena e dove molto spesso si andavano a concentrare gli armeni che erano sopravvissuti alle deportazioni. I loro signori erano detti Melik ed erano particolarmente forti nella zona del Karabakh, lo vedete qui sulla cartina, dove erano presenti i cosiddetti cinque Melik, cioè cinque potentati alleati tra di loro che, grazie appunto alla loro alleanza e alle loro forze militari, riuscivano a tenere fuori i canati, le forze tatare, dal loro territorio. Di questi Melik non venerano solo nel Karabakh, venerano anche in altre zone, ad esempio vicino a Yerevan, quella che diventerà la capitale dell'Armenia, e molto spesso erano alleati fra di loro proprio per opporsi ai musulmani. Poi, come talvolta capita, si scontravano fra di loro per questioni di potere, ma questo direi che è assolutamente umano. Questi Melik giocarono una partita su due tavoli, perché da una parte furono sempre molto intelligenti nell'appoggiare il partito che nel corso dei secoli riuscirà a prendere controllo della Persia. Persia che conoscerà vari cambiamenti di dinastia, passando ai Safavidi e arrivando fino alla Persia Qajar, cioè la dinastia che regnerà all'inizio del 1800, e questi Melik saranno sempre molto abili nell'appoggiare questi domini persiani di modo da veder garantita la loro indipendenza, anche come fonte di potere, di bilanciamento nei confronti dei canati, che erano nati come un'emanazione della Persia, ma che poi, come spesso capita, avevano forse acquisito un po' troppa autonomia. Dall'altra parte, in realtà, fin dall'inizio del 1700, questi Melik inizieranno a giocare anche una partita tentando di trovare qualcuno che li potesse appoggiare per liberarsi, cercando in Occidente chi potesse dargli appoggio, e poi, man mano che le forze dell'impero russo crescevano, man mano che la Russia si spingeva di conquista in conquista sempre più verso sud, iniziando ad identificare proprio i russi come un possibile aiuto. Tanto che quando lo stesso Pietro Grande condurrà una campagna nel Caucaso, giungendo fino in Armenia, molti armeni cercheranno di schierarsi con le sue forze e di appoggiarlo. Poi le cose non andranno bene, i russi saranno costretti a tornare indietro, ma intanto un'idea di appoggio già c'era. All'inizio del 1800, però, come abbiamo già raccontato nella serie dedicata ai Ceceni e ai Circassi, e poi in quella invece georgiana, la Russia fu abbastanza forte per iniziare a spingersi realmente nel Caucaso. Anzi, la Russia fu abbastanza forte e la Persia, che intanto appunto era preda degli scontri tra le varie dinastie, era abbastanza debole. Gli scontri videro fin dall'inizio vincitrici russi, vincitori i russi, che già nei primi anni del 1800 riusciranno a strappare i territori dell'attuale Cecenia, del Dagestan, della Georgia e addirittura quelli del nord dell'Armenia e i territori dell'Azerbaijan alla Persia. Mentre con una seconda guerra, negli anni 20 sempre dell'Ottocento, che culminerà nel 1828 con il trattato di Turkmenchay, per una volta il nome ve lo dico perché è un trattato importante, riusciranno a strappare anche il resto dell'Armenia. Perché questo trattato è importante? Perché è il trattato che a tutti gli effetti sancisce gli attuali confini territoriali. Perché da allora, anche se l'impero russo è crollato, anche se poi è nata l'Unione Sovietica e dall'Unione Sovietica sono nati l'Armenia e l'Azerbaijan, tanto per limitarsi alla zona sud, i confini tra questi stati e la Persia a sud, e poi ovviamente diventata Iran, non sono mai più cambiati. Il confine deciso da quella pace è rimasto lo stesso ormai da quasi 200 anni. Una volta che l'Armenia si trovò all'interno del territorio ottomano, diciamolo chiaramente, le aspettative erano alte. Anzi, gli armeni erano convinti che sarebbero stati premiati per il loro appoggio agli ottomani con la concessione dell'indipendenza. Un bello Stato armeno che potesse ovviamente ricadere sotto la sfera di influenza russa ed essere dai russi appoggiato. Gli russi in realtà avevano idee completamente diverse. Tanto diverse che giunsero ad un certo punto addirittura a prendere alcuni dei patrioti un po' troppo focosi e a deportarli altrove. Dopodiché trasformarono la Giorgia in un governatorato, il governatorato di Yerevan, inserito all'interno di un vicereame, il vicereame del Caucaso. Ora, la scelta era principalmente di tipo militare. In effetti le popolazioni che vivevano all'interno di questi territori, dai georgiani ai tatari a Zeri agli armeni, erano molto diverse. E molto diversi erano i territori che questo vicereame andava a controllare, ma inizialmente l'idea dei russi era quella di trasformare queste zone in zone militari da fortificare e dove mandare delle truppe per frenare eventuali tentativi di revancismo persiano o per preparare una nuova campagna contro gli ottomani. Gli armeni, almeno in questa prima fase, in realtà si agevolarono di queste cose perché ricevettero vari investimenti, vennero costruite strade, vennero ripristinate città, fortificazioni e tutto questo ovviamente iniziò a far arrivare una forte immigrazione nella zona che progressivamente fece risalire la popolazione. Quando nel 1828 i russi avevano conquistato l'Armenia, in realtà in seguito all'immigrazione forzata e all'arrivo di nuove popolazioni, solo il 20% di tutta la popolazione dell'Armenia era in effetti composta da armeni cristiani. Il restante 80% era invece composto da turchi, da tatari, che poi in realtà sono una popolazione turcomanda, quindi comunque imparentata, e da persiani. Quando i russi iniziarono a stabilirsi nella zona, sempre con l'idea di rafforzare questo possibile caposaldo contro gli stati vicino, iniziarono a stimolare il ritorno della popolazione armena, con parecchie decine di migliaia di armeni che lasciarono la Persia e tornarono nelle terre dei loro avi. E dall'altra parte, tatari, persiani e turchi, che spinti dalla difficoltà di mantenere una qualunque forma di controllo politico, abbandonarono questi territori, andando poi a stabilirsi appunto invece in Turchia, in Persia o in Azerbaijan. Nonostante non fossero riusciti a raggiungere l'indipendenza, però gli armeni in questi anni furono molto fedeli ai russi, a cui comunque riconoscevano il merito di averli strappati al dominio persiano e di aver ricreato una vera e propria Armenia per gli armeni. Furono molto fedeli ai russi, entrarono a far parte della macchina burocratica russa, addirittura nel 1880 il ministro degli interni dello zar, Alessandro II, era di origine, che si chiamava Melikov, era di origine armena e soprattutto iniziarono, soprattutto le classi medio-borghesi e la nobiltà, ad insegnare ai loro figli, oltre all'armeno, anche il russo, cosa che in effetti venne stimolata proprio dall'impero russo, che cercava di rifondere il russo come lingua neutra, che potesse essere utilizzata negli scambi in tutte le parti dell'impero, anche tra popolazioni che di base parlavano lingue completamente diverse. Gli armeni iniziarono quindi a far prosperare non solo la loro terra, ma anche nuovamente a diffondersi all'interno dell'impero, spesso assumendo ruoli di prestigio, ruoli dirigenziali, anche all'interno del caucaso, in Georgia o ancora di più in Azerbaijan, laddove gli armeni erano considerati essere tra tutti i popoli del caucaso quelli più fedeli ai russi. Inoltre, i russi ad un certo punto iniziarono ad allentare anche un po' la corda, permettendo il ritorno dei patrioti che avevano deportato, e addirittura iniziando anche ad agevolare la formazione di gruppi nazionalistici armeni, che però non erano tanto rivolti all'idea di liberare l'Armenia dai russi, quanto piuttosto dall'idea di fomentare rivolte all'interno dell'Armenia ottomana, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate. Quando nel 1877 scoppiò la guerra tra i russi e gli ottomani, l'ennesima guerra tra i russi e gli ottomani, quella che porterà in effetti i russi ad occupare l'Armenia occidentale, molti armeni dell'Armenia orientale si arruoleranno proprio nell'esercito russo, come volontari, addirittura talvolta costituendo intere brigate di armeni o mandando i loro nobili a comandare delle unità, sfruttando la migliore conoscenza del territorio rispetto a molti comandanti russi. E anche loro parteciparono alla guerra che permetterà inizialmente alla Russia di occupare la parte orientale dell'Anatolia e addirittura, con il trattato di pace quello di Santo Stefano, di in qualche modo mettere un piede nella possibilità di rinascita di un'Armenia veramente autonoma anche nei territori ottomani. Poi le cose non andranno così, lo abbiamo raccontato, le grandi potenze faranno revisionare questo trattato troppo favorevole alla Russia, l'Armenia occidentale tornerà all'interno del territorio ottomano, ma è ovvio che questo dimostra veramente quanto gli armeni, forse anche per interesse, fossero ormai legati ai russi. Con la salita al potere dello zar Alessandro III nel 1881, però le cose per gli armeni, così come per tante altre minoranze, iniziano a cambiare. Iniziano a cambiare perché il nuovo zar favorisce una politica fortemente di russificazione, che vuol dire di imposizione della lingua e della cultura russa a tutte le popolazioni che vivono all'interno dell'impero. non più come una lingua franca da poter parlare e comprendere, ma letteralmente come l'unica lingua da poter utilizzare. Tanto che all'interno della stessa Armenia inizialmente vengono addirittura chiuse le scuole che insegnavano a parlare armeno e poi vengono riaperte a patto che insegnano a parlare principalmente il russo e l'armeno solo come lingua secondaria, da utilizzare solamente in famiglia. Iniziano ad esserci nuovamente delle persecuzioni contro i gruppi di nazionalisti armeni che vengono accusati di essere potenzialmente fonte di ribellione, anche se in realtà i dati dell'epoca non sembrano confermare la cosa. Addirittura si bloccano i tentativi di questi nazionalisti armeni di portare la lotta armata all'interno dell'impero ottomano, cosa che forse avrebbe favorito da una parte i russi, ma che si temeva, avrebbe dato maggior potere a loro facendo rischiare alla Russia di perdere anche il controllo sulla sua parte di Armenia. Ci furono poi persecuzioni contro la chiesa che avrà meno libertà, non dimentichiamoci che la chiesa armena è staccata rispetto a quella ortodossa, come ad esempio quella russa, insomma in generale si venne un po' a chiudere il cappio sull'Armenia cercando di privarla di grandi libertà. Nonostante questo, in questo periodo la popolazione armena continuò a crescere e lo fece grazie all'arrivo di immigrati provenienti dall'impero ottomano che fuggendo dai massacri che stavano già avvenendo in questa zona, i massacri amidiani, ne abbiamo parlato nella seconda puntata, si riversavano all'interno dell'Armenia russa aumentando la percentuale di armeni nel territorio. Tanto che all'inizio del 1900 si stima che circa il 60% della popolazione presente nell'Armenia russa era in effetti composta da armeni e altri armeni si trovavano comunque in altre zone dell'impero. Nonostante questa situazione l'Armenia rimane comunque abbastanza stabile per l'impero russo, la maggior parte della borghesia non sembra appoggiare quei primi movimenti antirussi che sono nati, a cominciare da alcuni partiti come i Dashnak, che diventeranno uno dei partiti principi in questa ricerca di autonomia armena, che ripeto non erano particolarmente appoggiati dalla borghesia, che forse per quieto vivere, forse per guadagno personale, continuavano ad appoggiare i russi. Nel 1897 però le cose cambiano. I russi decidono di aumentare ancora di più la loro presa su questi paesi. La russificazione conosce un ulteriore passo in avanti, vengono questa volta definitivamente chiuse le scuole che insegnano in Armeno, vengono fatte grosse repressioni nei confronti della chiesa, addirittura le terre, i possedimenti della chiesa armena, considerata da sempre un motivo di unione per il popolo armeno, vengono espropriati e dati alla chiesa ortodossa russa, vengono chiusi giornali, vengono chiusi partiti, vengono chiusi associazioni culturali, insomma si cerca in tutti i modi di integrare a forza gli armeni all'interno dell'impero russo. La risposta è ovviamente quella contraria, perché se da una parte molte persone iniziano ad iscriversi, a partecipare a gruppi nazionalistici come appunto i Dashnake che in questa fase diventano sempre più importanti, dall'altra parte c'è anche un movimento di ribellione molto più nascosto con nobili ma anche media borghesia che iniziano a insegnare ai loro figli l'armeno in casa, iniziano a creare delle scuole nascoste in cui mantenere viva la propria cultura e in generale iniziano a creare una vera e propria resistenza, un tentativo di mantenere la propria forza. Nel 1905, quindi otto anni dopo, le cose cambiano di nuovo e a farle cambiare di nuovo è una rivoluzione. Ora immagino che molti di voi non se lo ricordino forse in maniera netta, ma al netto della rivoluzione d'ottobre, quella del 1917 che poi porterà alla caduta dello zar e all'instaurazione poi dell'Unione Sovietica, la Russia aveva già conosciuto vari movimenti di rivolta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, movimenti di rivolta causati da una parte dalla rigidità del regime ma dall'altra anche da una certa povertà diffusa che stava rendendo la Russia un territorio in cui era veramente molto difficile vivere. Nel 1905, in seguito anche ad una grave sconfitta militare contro i giapponesi nella guerra russo-giapponese combattuta in Manciuria e ad un ulteriore inaspirsi delle condizioni, fame, carestia, mancanza di denaro, la rivoluzione era scoppiata in varie zone del paese, la famosa corazzata Kotionki, tanto per dare un esempio, e oltre a queste zone non più famose, era scoppiata, erano scoppiata una serie di rivolte anche nel Caucaso, talvolta rivolte nazionaliste più spesso rivolte di tipo semplicemente economico, e una delle principali rivolte di questo tipo era scoppiata a Baku, in Azerbaijan. Ora facciamo un piccolo focus sull'Azerbaijan e sul popolo che vi abitava, cioè gli Azzeri o, ripeto, come venivano chiamati all'epoca i Tatari. L'Azerbaijan aveva conosciuto grossomodo la stessa sorte dell'Armenia, anzi addirittura qualche anno prima era stata conquistata dai russi e strappata ai persiani, ma a differenza dell'Armenia, quel territorio era ormai da molto tempo a larghissima maggioranza musulmana. Per questo inizialmente i russi non l'avevano particolarmente considerato, l'avevano trasformato in un distretto prevalentemente di tipo militare, avevano mandato delle truppe, ma poi si erano limitate a mantenere il controllo del territorio senza fare grossi investimenti. Le cose erano cambiate quando in Azerbaijan erano stati scoperti i primi pozzi di petrolio, a cominciare proprio da quelli vicino alla città di Baku. Pozzi di petrolio che volevano dire ricchezza, avevano voluto dire investimenti, costruzione di strade, costruzione di fabbriche e avevano voluto dire una maggior attenzione della Russia su questo territorio. Il problema è che gli azzeri non avevano goduto di particolare ricchezza da questa situazione, perché erano stati sì arruolati in massa per lavorare all'interno di questi pozzi di petrolio e poi in tutte le fabbriche di lavorazione successive, ma molto raramente avevano potuto prendere il controllo degli stessi, che invece normalmente veniva lasciato ai russi o ad altre popolazioni cristiane del Caucaso, principalmente armeni e georgiani, ma per vicinanza principalmente armeni, che venivano arruolati come direttori di queste fabbriche, direttori di queste zone di estrazione, ma anche operai specializzati, lasciando agli azzeri solo i compiti più bassi e ovviamente quelli meno retribuiti. La cosa inizialmente funzionava? Funzionava perché in realtà in quegli anni tra gli azzeri e gli armeni, o tra gli armeni e i georgiani, non vi erano particolari motivi di scontro, anzi i popoli che si erano largamente mischiati durante il periodo persiano erano ormai abituati a vivere tutti insieme e anche all'interno del territorio dell'Armenia stessa vivevano ancora tantissimi tatari, imparentati ovviamente con quelli dell'Azerbaijani, insomma motivi di scontro non ve ne erano. Quando nel 1905 però a Baku scoppiarono le proteste, proteste ripeto di tipo prettamente economico perché i lavoratori più umili venivano lasciati con paghe da fame a fare la fame in mezzo alla carestia, queste rivolte ovviamente videro gli azzeri iniziare a prendersere inizialmente con chi comandava, cioè non con i russi che stavano in alto ma con gli armeni che stavano a metà. Armeni che essendo ripeto principalmente di classi medio-elevate cercarono inizialmente di bloccare queste proteste proprio per agevolare la risposta russa. Il risultato furono una serie di scontri e violenze che da Baku si allargarono anche in altre zone e che videro la popolazione azzera attaccare le comunità armene e ovviamente venire attaccati di risposta con parecchi morti, si parla solo nella stessa Baku di quasi 500 morti tra gli armeni e un migliaio di morti tra gli azzeri, morti che però aumentarono ancora di più quando i russi mandarono le loro truppe, principalmente i cosacchi, a reprimere quelle rivolte. Una repressione che si allargò, ripeto, a tutto il Caucaso meridionale e che vide alla fine più di 10.000 morti tra entrambe le parti. Il risultato, al netto del ristabilimento della situazione della ripresa di controllo da parte dei russi, fu che finalmente lo zar Nicola II iniziò a vedere negli armeni una possibile fonte di stabilità nell'area, iniziando ad allentare la sua presa, concedendo maggiore libertà agli armeni stessi e in qualche modo ripristinando quel legame che si era venuto a creare all'inizio dell'Ottocento tra l'Armenia e la Russia. L'altra cosa che però successe è molto meno favorevole e che tutto questo creò una serie di faide e di scontri tra gli azzeri e gli armeni che da questo momento in poi andranno sempre più a peggiorare, perché i due popoli, che fino a quel momento avevano vissuto fortemente intrecciati con territori a maggioranza di uno dell'altro che si incastravano uno nell'altro per motivazioni prettamente storiche, improvvisamente, non amandosi più, iniziarono a competere per quegli stessi territori. Finché si trovavano all'interno dello stesso Stato, dell'Impero Russo, questa competizione rimaneva su un livello molto basso, ma quando poi l'Impero Russo perderà il controllo di queste zone, ecco che questi odi si accenderanno veramente. Inoltre, gli armeni inizieranno ad essere visti come dei possibili traditori del Caucaso anche dai georgiani. Pare che peraltro, su questo punto, abbia spinto molto anche la polizia segreta russa che aveva capito fin da subito che creare delle rivalità tra i vari stati del Caucaso voleva dire tenerli più facilmente sotto proprio controllo. Ad ogni modo, nei primi anni del Novecento, la migrazione di armeni provenienti dalla Turchia non si arrestò e quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, ancora una volta gli armeni si arruolarono insieme ai russi per liberare quella che era l'Armenia occidentale. Di quello che succederà però durante la Prima Guerra Mondiale agli armeni russi, purtroppo di quello che è successo agli armeni ottomani ne abbiamo già ampiamente parlato, ne parleremo nella prossima puntata. Dove racconteremo questi avvenimenti, racconteremo che cosa volete dire per gli armeni arrivare in territori dove il genocidio stava avvenendo e racconteremo di come nel 1917, con il crollo dell'Impero Russo, la nuova Armenia, un nuovo Stato, andò a sorgere. Uno Stato che sulla carta avrebbe voluto mantenere la propria autonomia e che poi vide le cose invece andare in maniera molto diversa con l'arrivo dell'Unione Sovietica vera e propria e dell'occupazione, rieoccupazione di questi territori. Ma ne parleremo nella prossima puntata. Io intanto mi fermo qua. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Quello che è importante secondo me portarsi dietro da questa puntata e che per gli armeni russi la situazione fu probabilmente più positiva rispetto a quella degli armeni ottomani, ma fu comunque difficile anche nei rapporti con i russi, ma soprattutto che il territorio che attualmente è armeno, all'epoca russa era leggermente più ampia l'Armenia ma ne parleremo nella prossima puntata, in realtà già all'epoca era diviso tra varie popolazioni che si erano insediate durante il dominio persiano. Terzo punto, che tra armeni e azeri, da 1905 la situazione iniziò a essere sempre più difficile e a peggiorare. Tutti aspetti che rivedremo nelle prossime puntate, cambiare la storia di questa zona e portarci proprio al racconto di ciò che avviene ancora oggi. Prima di chiudere, come sempre, lasciatemi fare un grandissimo ringraziamento ad abbonati, Patreon e chi fa donazioni sul conto Paypal, perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo ad avere più materiale a disposizione di tutti. Credo che in questi mesi gli effetti si siano ampiamente visti. Il ringraziamento di oggi, in particolare, va ad Orlando Don Francesco. Grazie mille per il tuo aiuto. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessun scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete curiosare tra qualcuna di queste storie, qui a fianco c'è l'elenco delle pillole, riuscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao.